Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da IRforex.com e questo video vuole essere un video molto operativo con una idea personale che ho rispetto a un mercato valutario che è Neuzeranda Yen e come ho deciso di impostare la mia operatività su questo cross Prima di partire vi chiedo sempre di iscrivervi a questo canale se vi interessa il Forex e la Price Action di mettere un mi piace al video se il video vi sarà piaciuto e ovviamente di attivare la campanella così da avere tutte le notifiche dei video e delle live che facciamo Partiamo subito, guardiamo il grafico di Neuzeranda Yen questo è il cross valutario che prende il cambio Neuzeranda Dollaro e Dollaro Yen quindi la mia analisi parte ovviamente da questi due cambi cercherò di essere riassuntivo, di non fare una analisi troppo lunga però parte da questi due cambi per andare poi a Neuzeranda Yen come andiamo a notare, quindi riprendiamo rapidamente Neuzeranda Dollaro, eccolo qua che come potete notare, prendiamo anche un mensile è in una situazione interessante perché arrivavamo da un rialzo molto chiaro dei prezzi con un arrivo molto interessante su un livello importante 0,6950 che ci porta ad avere praticamente una visione di medio termine rialzista ma che potrebbe anche avere un ribasso ulteriore verso 0,68 e 0,65 il Dollaro Yen, eccolo qua sta vivendo assolutamente un rialzo degli ultimi tempi anche se nell'ultimo periodo sta avendo negli ultimi giorni un ribasso ma quello che voglio dirvi è che c'è una tendenza particolarmente interessante il Dollaro Yen anche con possibilità di arrivo tra 112 e 114 quindi quello che voglio dirvi è abbiamo un Neo Zelanda Dollaro quindi un Neo Zelanda che è arrivato su dei livelli di supporto importanti potrebbe ancora avere un ulteriore storno ma siamo arrivati su dei punti importanti con una bellissima trend e il Dollaro Yen uguale, quindi uno Yen che tende ad essere venduto sul Dollaro e questo si rifà ovviamente nella price action del Neo Zelanda Yen cross valutario che prende appunto i due cambi di cui abbiamo appena parlato e che è arrivato anche lui, vedete, su un'area importante di supporto che è appunto questa zona qui, diciamo la zona 76,5 76,40, zona importante come potete notare sotto, se guardiamo nell'ampio respiro ecco qua, abbiamo altre due soprattutto un'area che è questa che ho segnato con questo rettangolino che è praticamente la zona che risponde al numero 73 73, 72,5 insomma l'area che vedete qui anche fino a 72 72,73 diventa questa un'area quindi diciamo che in linea generale già qui io, ve lo dico, ho acquistato una piccola un piccolo parziale di Neo Zelanda Yen al momento ma con l'idea che potrei anche ulteriormente comprare qualora i prezzi andassero su questa zona e ci formassero una price action interessante di acquisto e quindi poi avere un prezzo di carico medio più basso ma una esposizione maggiore detto questo al momento ho comprato allora ho comprato prima di tutto appunto perché la price action di questi mercati quindi di questo in particolare, di due cambi che lo formano mi piace da un punto di vista appunto strutturale quindi con dei bei supporti, delle belle aree una bella tendenza al rialzo con possibilità appunto di continuare questo rialzo con obiettivi almeno iniziali di 83, 82,50, 83 la zona che vedete qua sopra e poi perché questo trade è un trade di medio termine quindi è una posizione che non terrò una settimana tant'è che io adesso la sto girando in questo momento siamo al 15 di luglio voi la vedrete probabilmente tra una decina di giorni sul canale questo video proprio perché è un ordine un acquisto che io ho fatto circa questi livelli leggermente sopra questi livelli l'ho fatto ieri l'ho condiviso con gli utenti iscritti al Mentorship e alla Scuola Platinum è un trade che potrebbe durare qualche mese ecco perché ho una view di ampio respiro dove praticamente ho un'esposizione assolutamente al momento sotto leva cioè sotto leva neanche a leva 1 cioè proprio sotto leva con l'idea appunto che anche se ci dovesse essere uno storno di 300-400 pips questo non è nient'altro che una possibilità di acquisto migliore questo è quindi fatto questo preambolo ovviamente potete capire che il mio trade non è un trade classico di quelli che faccio mensilmente che dura qualche giorno al massimo una o due settimane ma è un trade un po' più di ampio respiro che ha appunto come obiettivo questi quasi 600 pips area 83 in realtà è un mercato che potrebbe anche salire maggiormente ma al momento non vorrei andare oltre quindi qui probabilmente diventerà la mia zona di profitto molto interessante su questo trade poi un altro motivo che mi ha confermato diciamo il fatto di mettermi long di neozelanda yen nel medio termine è che diciamo che la rbnz quindi la banca centrale neozelandese ha praticamente di base annunciato la fine del cui quindi ha iniziato ad annunciare un cambio di politica monetaria da parte appunto del neozelanda e questo diciamo fine del cui a fine mese di luglio quindi tra poco diciamo che potrebbe significare che potrebbe la banca centrale essere pronta ad alzare i tassi di interesse anche tra agosto e settembre e questa cosa ovviamente è interessante quindi in un sottoconto mio avere una posizione long di neozelanda yen che può durare qualche mese senza essere troppo a guardare i mini ribassi i mini rialzi è assolutamente interessante e potrebbe dare delle belle soddisfazioni voglio dire 5-600 pips di movimento insomma sono sicuramente delle su un trade molto semplice diciamo può essere cioè che non mi crea gestioni di nessun tipo ma molto molto easy tenendolo lì è assolutamente interessante quindi in più la ciliegina sulla torta che mi ha fatto ancora di più confermare che questo trade può essere un trade più di ampio respiro è che nei prossimi mesi potrebbe completamente essere cioè completamente potrebbe esserci diciamo un neozelanda con una politica monetaria meno accomodante tassi di interesse più alti con invece una politica monetaria molto differente quella del Giappone che invece diciamo che rimarrà un po' così e quindi comprare diciamo valuta ad alto rendimento rispetto a valuta a basso rendimento sapete che spesso crea dei positivi dei profitti e in questo caso tra l'altro andando a prendere un po' quello che è lo swap overnight lo swap long quindi quello che è differenziare le tasse più il prestito diciamo della leva che ti dà il broker al momento è leggermente negativo quello che vedete qui tra l'altro è più negativo perché oggi è la giornata tra mercoledì e giovedì dove il tasso top next prende tre giorni ma è ancora più basso quindi in questo caso potrebbe anche essere che alzassero i tassi di interesse questo diventerebbe addirittura potrebbe diventare anche positivo quindi in questo caso direi che meglio di così io ho un posizionamento di medio termine che assolutamente può essere interessante per concludere quindi ho guardato la price action in neozalanda yen in realtà perché sono andato su neozalanda yen perché conosco bene un po' come si muove il neozalanda dollaro e il dollaro yen sono andato su neozalanda yen ho ho seguito gli ultimi l'ultimo evolversi della politica monetaria della possibilità appunto questo rialzo di tassi di interesse da parte della banca centrale neozelandese nei confronti della banca centrale giapponese quindi questo neozalanda yen è ancora più interessante da questo punto di vista al medio termine poi ovviamente sono andato a vedere il grafico neozalanda yen e ho notato che in effetti già ai livelli attuali può essere interessante perché la price action già ci permette di fare un inizio di trade poi per concludere se ci dovesse essere ripeto anche un ulteriore storno verso questa zona e mi dovesse come ho detto prima confermare un long su questa zona potrei raddoppiare il mio investimento avere un prezzo medio di carico che magari sarà qui e un po' più sotto insomma dove sarà e a quel punto avere un'esposizione maggiore ma con un prezzo di carico migliore e quindi ancora di più insomma quindi diciamo che seppur l'idea è quella che il mercato non possa andare troppo più giù ma se dovesse andare più giù potrebbe essere addirittura un'occasione di incremento migliore per un trade un po' più di ampio respiro cioè di qualche mese se succede che tra agosto e settembre mi spara su e va direttamente a 83 ovviamente durerà meno porterò a caso il profitto e questa è un po' l'idea bene allora io direi che vi ho fatto vedere anche una cosa un po' diversa dal classico trade di qualche giorno qualche settimana una cosa un po' più di ampio respiro che fonda la sua idea non solo su una price action chiara ovviamente prima di tutto su quella ma anche sulla conferma che ci può essere un cambio di politica monetaria che porterebbe ancora di più diciamo interesse a comprare dollari neozelandesi quindi concludiamo qui io ovviamente vi auguro una buona giornata vi richiedo di cacciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto vi può supportare nella vostra operatività scrivete nei commenti magari un po' cosa ne pensate soprattutto nei commenti scrivete se avete qualche argomento qualche idea da proporre nei prossimi video perché sicuramente è ben accolta e cercheremo di fare dei video anche su quello che scrivete sui commenti quindi io vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao